Preferisci leggere un lungo testo o guardare un video? Probabilmente la seconda e non sei certo l'unico. Si stima infatti che nel giro di pochi anni oltre il 90% del traffico web sarà proprio video e non sarà certo tutto porno o film pirata, ma sempre di più le persone comunicheranno, scambieranno informazioni in questa modalità. Non so cosa tu stia facendo ora, in realtà stai proprio guardando un video sul web, ma sempre di più comunicherai in questo modo se già non lo stai facendo. Perché? Perché ti offre due grandi vantaggi. Il primo è che la comunicazione in video è più efficiente. Ad esempio in tre secondi posso mostrare come fare il nodo per allacciare le scarpe. Se volessi usare del testo mi ci vorrebbe molto più tempo per scriverlo e al destinatario molto più tempo per leggerlo. In secondo luogo il nostro cervello è meglio predisposto per comunicare in questo modo. Dei cinque sensi la vista è quello più importante. E poi sin dalla notte dei tempi, sicuramente per proteggere noi stessi da diventare prede, abbiamo una capacità innata a reagire al movimento. La comunicazione in video quindi non solo è più efficiente ma anche un maggiore impatto emotivo. Volenti o dolenti, dobbiamo, devo e devi migliorare nel comunicare in video. Da subito! Grazie a tutti! Grazie a tutti!